Ci mettiamo noi soldi che servono tranquilli. La piattaforma logistica in Valle Ufita si farà nonostante la lievitazione dei costi. I 25 milioni di euro stanziati originariamente, fondi PNRR, li destineremo a Benevento. Gli 80 che servono all'Irpinia li stanzia la regione. Nel bel mezzo delle polemiche, delle proteste, della mobilitazione, lunedì 1 maggio, manifestazione proprio in Valle Ufita, ecco l'annuncio del governatore De Luca. La regione finanzierà con 80 milioni Valle Ufita e al limite i 25 milioni, anziché perderli, li spostiamo su Ponte Valentino. Questo è tutto. Ho visto che c'è stata un po' di ammuina. La regione ha programmato la realizzazione di tutti e due gli interventi logistici. Quindi, tranquilli tutti quanti. Ovviamente, gli 80 milioni li recupereremo per Valle Ufita, visto che non ci sono nel PNR, con i fondi sviluppo e coesione, che ovviamente ci attendiamo che si sblocchino quanto prima possibile, visto che il governo sta cercando di rapinare le risorse del sud. Comunque, tranquilli tutti gli interventi saranno realizzati.